Fidenza, un segreto soltanto per 34 ore, ossia un giorno e mezzo. Buon pomeriggio, benvenuti, nuova puntata di Dillo a Lorena. Il buon pomeriggio è anche per Simona Tedesco, che è il direttore di... Credo che un segreto, se è vero, si è sentito, si riesce a mantenerlo senza problemi. Secondo me sì. Si rivela tutto in quel caso? Sì, in quel caso sì. Quindi non è un vero segreto, diciamo? No, in quel caso no. Se è una vera simbiosi, si dice tutto. Michelle Lurie, buon pomeriggio, benvenuta. Il migliore, sì. Ecco, tu Simona con l'iWeb hai fatto un'indagine proprio su questo fronte. Che cosa? Lui ci racconterà l'opinione che ha della discrezione fegista. Mi metto qua, scusa, cambi la posizione. Carico la Simona Tedesco in modo che possa rispondere. Certo di più del uomo. Risposto a rispondere a Stefano. Risposto. Le è successo mai di confidare a un'amica? Del segreto. È arrivata intanto un'email, grazie, ricordo il sito internet. Questa è nera riprova. In una situazione fa il giro del corrido. Però è una mancanza di rispetto totale. Dica, sai, lei ha un altro uomo. Allora, confermati tutto quello che stai dicendo. È Fano, siamo io e te. Filippo, grazie, ci aiuti in questo inquadrato. Ma chi è che ti ha segnato così tanto? Ma molte volte, ricordati che vivo... Questi uomini non sono stati traditi dalle donne e tu sì. Ma avete scelto dei campi... Concludiamo? Concludiamo? Ma io...